Credo non ci sia nessuna emergenza climatica, almeno non per il pianeta. Non vedo la Terra come un essere sottomesso alla pazzia dell'uomo e che ha bisogno di essere salvata. Qui, se c'è qualcuno che ha bisogno di essere salvato, siamo noi, e da noi stessi. Sono certa che quando avremo distrutto tutto e ci estinguiamo, passeranno altri miliardi di anni e la Terra tornerà ad essere un paradiso. Forse allora ci saranno esseri davvero intelligenti, capaci di vedere, rispettare, amare la natura del pianeta.